Va a Gardi, per Ponzio, pallone per Principe che cerca di liberarsi sulla fascia destra, attenzione Principe, interviene ancora Pettinato, ancora Principe, la porta è sguarnita, va a colpire il numero 11, D'Angelo di piatto di sinistro, rete, dopo l'intervento del portiere Pettinato è arrivato il gol di D'Angelo. Di sinistro di piatto, frutto di un bel lavoro di squadra, un lancio lungo di Ponzio e poi è arrivato questo bel gol di D'Angelo quando siamo giunti al minuto 40, si sblocca il punteggio qui al Marca.